La Ghezzi è una società nata nel 1949, costituita da mio nonno, è nata come torcitura, come produttore di seta e poi ha seguito tutta la strada delle fibre artificiali e sintetiche. In realtà facciamo ancora qualcosa di seta ma è limitatissimo. Noi abbiamo sempre posto la massima attenzione, soprattutto negli ultimi anni, alla sostenibilità ambientale, quindi le nostre lavorazioni e le nostre materie prime sono sempre state comprate, lavorate, prodotte nell'ottica della massima ecosostenibilità. Nel corso degli anni naturalmente le fibre artificiali e sintetiche, che non sono la seta, sono diventate sempre più, questioni economiche da parte dei filatori, con confezioni sempre più grosse. E quindi, prima erano 4 kg, poi 6 kg, poi 8 kg, adesso di 10 kg, ci avvisano che arriveranno a 12 kg. A questo punto, accanto alla ecosostenibilità ambientale e alla correttezza nei confronti della natura, abbiamo ritenuto opportuno e giusto far sì che le persone non si rovinassero le braccia nel caricare le macchine. Per questo ci siamo messi a guardare cosa poteva esserci di disponibile, fermo restando che un robot per la nostra estrema diversificazione era troppo difficile da poter incastrare dentro fra le varie macchine e quindi è venuto avanti invece la possibilità di questo esoscheletro. Le prime prove che abbiamo fatto, con i due esemplari che abbiamo acquistato, sono positive, il personale è contento e quando il personale è contento sono contento anch'io. Effettivamente questo ci voleva perché da quota più o meno zero a quota due metri la cosa diventava molto pesante. Non è stata una scelta nostra quella di appesantire le confezioni di materia prima, ma ovviamente una scelta dei produttori. A questo punto valuteremo poi se prenderne uno a coppia, uno a persona o quant'altro. Avendo molti problemi alla schiena sciatica, devo dire che dopo otto ore di lavoro alzare pesi molto pesanti, devo dire che ho trovato un gran giovamento, un lavoro molto più veloce, molto più agevolato e alla fine della giornata finalmente ho risolto i miei problemi alla schiena che mi affliggevano. Lo terrei sempre. Quando l'ho provato molte volte comunque per tirare su degli oggetti molto pesanti, diciamo che dà molto sollievo comunque, è una cosa che veramente ti scarica giù la forza direttamente da qua e spinge bene le cose, diciamo che è molto funzionante. Grazie a tutti.